Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Stefano Macchi, ex storico di Anna Pettinelli, sarà padre, aspetta un figlio dalla nuova fidanzata. Ha solo pochi mesi, dall'addio alla conduttrice radiofonica 65enne, a cui è stato legato per ben 8 anni. L'annuncio arriva via social, Elisa Dospina, con cui l'attore e doppiatore 47enne era uscito allo scoperto solo lo scorso agosto, è incinta. Macchi, di 18 anni più giovane della Pettinelli, sorride felice ed emozionato fino alle lacrime insieme alla famosa modella 39enne, diventata popolare grazie a detto fatto. Lei, che ha alle spalle un divorzio, dal 2011 al 2021 è stata sposata con Andrea Alessandrini Gentili. Mentre i due fanno i turisti in Vaticano, gli dà un pacchetto che contiene il test di gravidanza positivo. La coppia si abbraccia al settimo cielo. Dopo che Macchi era uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, Anna aveva prontamente cambiato la sua biografia su Instagram condendola di una sottile frecciatina verso l'ex, in cui scriveva. Conduttrice radio televisiva ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell'amore, ora sono nell'amicizia. Sono la solita cogliona. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.